Grazie per l'invito. Grazie per l'invito. A volte ci sono più esperti di canali digitali nelle funzioni marketing che nelle funzioni di sistema operativi. No, non è vero. Quindi questa distanza assolutamente si va in un certo senso ad eliminare. Il canale digitale però è uno delle tecnologie, dei canali che si possono utilizzare, quindi la tecnologia può mettere in campo per supportare il marketing. Quindi per capire come le tecnologie possono veramente supportare il marketing, io ovviamente sono da Bocconi in università, fatemi fare un piccolo inquadramento. Disturbiamo il papà del marketing perché se non disturbiamo Kotler non... Quindi come partiamo, quando dicevo ok c'è stata un'era del marketing 1.0 dove al centro cos'era il prodotto. Fondamentalmente nel cliente restava poco a nessuno e quindi il modello che veniva messo in campo era quello del mitico marketing mix delle 4B. Abbiamo quindi un prodotto, dobbiamo definire un prezzo, dobbiamo avere un posto dove venderlo e dobbiamo fare una promozione. Da voi diciamo ma forse come dire il cliente qualcosa c'entra e quindi abbiamo questa seconda in un certo senso era il marketing 2.0 Vedete 1.0, 2.0 che ovviamente arriviamo al 3.0 anche qui quindi commissione, come dire tecnologia e marketing. Dove in realtà come dire si è capito che forse il cliente è importante. Non è che gli devo piazzare quello che ho ma forse prima devo capire che cosa vuole il mio cliente e quindi poi creare qualcosa, un prodotto che va a supportare, che va a soddisfare la sua esigenza. Quindi non iniziamo a parlare di prodotto ma iniziamo a concentrarci su un customer value, ci devo creare qualcosa che ha un valore per il prodotto, per il cliente. Quindi vado anche al di là del prodotto fisico in se stesso, ho un accorredo di servizio e così via. Vado a parlare di customer cost, cioè qual è il costo? Non è solo il costo per il cliente, non è solo il prezzo di vendita, ma è anche il fatto che ne so, che per averlo deve andare magari a parte, deve perdere tempo, tutto questo. Quindi ha il costo per il cliente. Customer convenience, e qui entra in gioco un po' anche la volontarità. Io devo fare in modo che quello, come dire, che io vendo sia raggiungibile, che sia disponibile nel modo e nel luogo più conveniente per il mio cliente. E poi iniziamo a parlare di comunicazione, non più promozione, quindi come dire io mando un messaggio, ma iniziamo a comunicare. Quindi è una comunicazione bidirezionale. Io parlo con il mio cliente, il mio cliente risponde, interagiamo. E quindi capiamo un attimino quali sono i quali bisogni, come soddisfatti e così via. Terza era, quella del marketing 3.0, andiamo addirittura oltre. Diciamo, ma in realtà il nostro cliente ormai non vuole più solo soddisfare un bisogno primario, ma in realtà il nostro cliente adesso che cosa vuole? Vuole un po' in un certo senso riconoscersi nella nostra azienda. Vuole condividere i valori. Se lui è un ambientalista e noi siamo un'azienda che inquina, forse non ci comprerà i nostri prodotti. E quindi andiamo oltre, vedete la human-centric era, quindi con un modello delle 3.0, dove l'identità, l'immagine, diventa fondamentale. Quindi la frontiera tra i valori del marketing non è solo ascoltare il mio cliente, capirlo e trovare il prodotto che soddisfa il loro, il suo bisogno, ma anche creare questa, cioè cercare di creare un'immagine e quindi un'identità in cui il nostro cliente si riconosce. Kotler, nella lettera italiana, si parla di marketing che va quindi oltre il cliente, ma va all'anima. Quindi questa, come dire, quasi fusione, questa, come dire, sì, questa relazione con l'azienda che va ben oltre il soddisfacimento di un bisogno. Questo, se è il percorso, e non è detto un percorso che le aziende stanno facendo, sicuramente il prodotto al cliente, ormai questo salto l'abbiamo fatto, però, come dire, dal cliente all'anima del cliente, in realtà è un passaggio che si sta facendo. Il primo passaggio sicuramente è quello, come dire, che è stato caratterizzato dall'information age, cioè il fatto che il nostro cliente è sicuramente più informato, è un cliente più consapevole. Dall'altra parte, invece, il secondo passaggio, come viene definito, da che cosa è caratterizzato? Invece è caratterizzato da partecipazione e collaborazione. Quindi il nostro cliente non vuole più avere, tra virgolette, ruoli passivi, ma vuole avere un ruolo attivo, proprio anche nella definizione dei prodotti, nella definizione, quindi magari nel collaborare, a creare anche campagne di marketing, come vedremo. E quindi questo, mi arrivo alla tecnologia, insomma, quindi questi passaggi, questo cambiamento del marketing, che è importante però per capire come supportare, le tecnologie sono tante, la sfida poi sta nel sapere scegliere quelle che sono veramente utili e soprattutto saperle poi impiegare nel modo migliore, perché, se no, come dire, il panorama di quello che si può fare con tecnologie è veramente infinito. Quindi questo passaggio cosa ha portato? I clienti, sempre più consapevoli, informati, connesse, queste tecnologie sempre più pervasive e accessibili, ovviamente, appunto, diciamo, questi clienti che sono sempre connessi, sempre collegati, ovunque, in questo momento, e quindi che cosa? Fondamentalmente questa tecnologia, la tecnologia, da un lato è stata assolutamente la causa di tutto questo cambiamento, ma dall'altro lato in realtà la tecnologia è, se non la soluzione, però sicuramente è un fattore abilitante alla gestione di questo cambiamento. E quindi in questo senso bisogna cercare di utilizzare la tecnologia. Ma in questo, quindi, cosa vuol dire utilizzare la tecnologia a supporto del marketing, quindi per interagire, quindi per comunicare con i nostri clienti, come avete visto stamattina in maniera molto approfondita. Le tecnologie cosa ci devono permettere di fare? Ci permettono, ci devono permettere di dialogare con i nostri clienti, interagire, agire, cioè in funzione delle scatture, si verifica qualcosa e devo poter agire in maniera immediata, non dopo NTI. Devo imparare ad osservare, ad imparare a conoscere sempre in maniera più approfondita i nostri clienti. Dobbiamo iniziare a collaborare con loro, a co-creare, quindi proprio a costruire un processo di partecipazione con loro, L'altra cosa importante, forse a me piace sottolineare, è proprio quello di ascoltare. Nel senso che noi diciamo che le tecnologie, i canali digitali, tutti questi social e così via, abilitano tutta questa interazione che le aziende utilizzano tutti i canali digitali per comunicare e quindi scambiare, quindi cambiarsi con le loro clienti. Ma in realtà molte volte questo diventa semplicemente un canale digitale, semplicemente un altro canale che viene utilizzato ma per realizzare una comunicazione in realtà monodirezionale. è semplicemente che invece di mandarti la lettera a casa, ti mando l'SMS sul cellulare piuttosto che ti contatto attraverso Facebook e così via, ma non c'è l'ascolto, che invece è la parte cruciale. Se deve essere una comunicazione bidirezionale, questo è assolutamente l'espetto cruciale. coinvolgere, altro elemento importante, è il decidere, prima Valentina diceva assolutamente l'importanza del raccogliere dati, delle analytics, i big data, si parla tanto di big data. Il big data è una, voglio dire, dei modi che sicuramente sono funzionali alla possibilità di decidere in maniera compiata e quindi comunicare. Cerchiamo quindi adesso di vedere, di entra un attimo più nel merito delle tecnologie. ovviamente non entrando nel dettaglio tecnologico, perché questo è un aspetto che a voi non interna, ma vedere cosa possono fare le tecnologie. Abbiamo detto, prima cosa, la tecnologia ci permette di interagire. Questo è semplicemente un ipotetico percorso di un mio cliente che compra un vestito. Vede una pubblicità, quindi cosa fa? Dice bello questo vestito, c'è il QR Coda, si collega, vede quanto costa, poi va a vedere in quale negozio è disponibile, quindi poi si reca, sul negozio, interagisce, in questo punto, col personale di vendita, acquista il suo prodotto, mentre esce, fa un tweet, dice che bello, ho fatto la cosa così, torna a casa, riprova il vestito, non è più convento, non gli piace più, quindi utilizza, quindi ha un reso e così via. Quindi che cosa vuol dire? Che la tecnologia deve permettere di interagire con il nostro cliente utilizzando tutti i canali. La tecnologia ovviamente è quella che ha generato il canale digitale, ma utilizzare la tecnologia in ottica di multicanalità vuol dire che io cliente posso saltare da un canale a quell'altro in maniera assolutamente anche imprevista e devo ritrovarmi in qualsiasi canale, in qualsiasi canale, io utilizzo che devo ritrovare l'identità della mia azienda. Devo per esempio avere la possibilità di andare su internet, di vedere una cosa e poi di riuscire ad andare a comprarla in negozio, piuttosto che invece vado in negozio, vedo un prodotto e direttamente dal negozio posso invece comprarlo online. Vuol dire che per esempio posso utilizzare le app per anche, come dire, moltiplicare le occasioni di contatto. Per esempio Tiffany ha un'app che ti permette di, come dire, provare un anello, di vedere, quindi di prenotarlo e di prenotare un appuntamento col personale di vendita. Quindi dico ok, mercoledì è una bella giornata che ho deciso di andarmi a comprare un bel diamante, piatti, non sarebbe mai, no? Però lo, come dire, lo prenoto. E quindi tutta questa, come dire, interazione assolutamente libera. E quindi molte volte si dice che non si ragiona più in ottica di multicanalità, ma di omnicanalità. Cioè non c'è più nessun confine tra un canale e l'altro. Non sono più, non c'è più il canale digitale, il canale offline e così via. È un tutt'uno. E quindi si va a pregnare che cosa? Le sinergie che si creano tra questi canali. Non si va a ragionare in ottica di cannibalizzazione come si faceva prima. Quindi si dice, beh, ma forse il canale online, il canale digitale può cannibalizzare il canale offline. Oggi si è dimostrato che assolutamente questo non è vero. Che le sinergie, quindi l'interazione tra questi canali fanno assolutamente, come dire, sponsorizzare. E questo ovviamente poi va a impattare su tutta l'azienda, perché cambiano le logiche dell'organizzazione, cambiano tutti i processi di weekend. Non so, prima dicevamo, io dal canale digitale posso vedere se quel vestito che mi piace tanto c'è in quel negozio. Bellissimo dal punto di vista di servizio offerto. Però questa piccola informazione, in realtà, il fatto di produrla in quell'aziendale non è una cosa così banale. Perché ci sono dietro dei sistemi che ti permettono di avere costantemente sotto controllo quelle che sono le scorte e quindi le gente ti, si rimaggia quello che è il tuo, ma quello che c'è in negozio e quindi ti possono dare in tempo reale la disponibilità. Perché se io ti dico, vai in Montenapoleone che c'è quel vestito e poi io credo, vado in Montenapoleone che quel vestito non c'è, quindi la customer experience non è propriamente delle migliori. E quindi la tecnologia deve aiutare proprio a fare questo, a riuscire a gestire i diversi canali e a fare in modo che tutta la macchina funzioni correttamente. C'è ora un film di qualche anno fa che è Minority Report con Tom Cruise in cui lui entrava, facciamo una miniatura, facciamo una traducità, in questo store di Gert e come entrava lui veniva assolutamente riconosciuto e quindi cosa succedeva? Che sui diversi monitor comparivano della pubblicità e quindi delle promozioni ad hoc per lui. Questo è quello che la tecnologia potrebbe permettere di fare, piuttosto che vado in camerino e sto provando un vestito e mi propone tutti gli accessori che possono stare bene con quel vestito e altre tecnologie che posso utilizzare. L'altro elemento invece è quello di coinvolgere, la tecnologia deve coinvolgere. Se abbiamo detto che la partecipazione è un elemento importante, la tecnologia ci permette di fare anche questo. Mi permette, non so, davanti a una vetrina di provare, ma non ovviamente fisicamente, ma di simulare, infatti, di provare ad esempio un paio di occhiali. Li trovo, scelgo, come se fosse in negozio, però li provo virtualmente, dopo di che quando ho scelto quello che voglio lo stampo, entro e lo compro. Piuttosto che invece attraverso, vedete in questo caso col tablet, se io ho una vetrina dove ovviamente c'è un capo di abbigliamento su un manichino, attraverso il mio tablet in realtà riesco a vedere quel capo di abbigliamento indossato da una modella, non da un manichino. Piuttosto che invece c'è altre vetrine che si, come dire, popolano con quelle che sono in foto e quindi che vengono poi postate su diverse liste, ma piuttosto che e così via, dai clienti. E quindi una forma di coinvolgimento in tutte le tecnologie che cercano di creare partecipazione. Altro elemento, come abbiamo detto, è quello della collaborazione. Questo è il caso di Agidas, un caso molto bello e interessante che è stato presentato proprio qui ad aprile in un convegno di Est, è un caso in cui la tecnologia, in questo caso i fondamenti, cosa hanno permesso di fare? Hanno permesso di costruire proprio una campagna di marketing con i clienti, in questo caso con quelli che erano tutti gli fan del Rubic. Quindi cosa ha permesso di fare? Ha permesso proprio di definire con loro quali erano gli slogan che venivano utilizzati. Ha permesso poi di costruire addirittura una sorta di inno con tutte le voci raccolte, in quel caso attraverso Facebook, dai fan, per poi arrivare a portare quindi quelli che erano diciamo gli slogan più innovativi e migliori della campagna addirittura sulla maglietta. Quindi il cliente si vedeva che una parte della sua creatività si andava a concretizzare proprio su una capo di aprile. Se stavamo di collaborazione non ci possiamo ancora dimenticare della parte di co-creazione. Quindi abbiamo detto, marketing deve capire quali sono i bisogni dei nostri clienti. Certo, ma possiamo anche in realtà coinvolgere i nostri clienti nella creazione di nuovi prodotti. Nel nostro processo di quale è veramente di ricerca e sviluppo. Perché per esempio il caso Lego, che ha lanciato un rete in gas, in cui tra l'altro sito tu puoi andare e da un lato puoi consumirti un'impersonalizzabile nella tua scatola del Lego, ma dall'altro lato il realtà è contribuito alla creazione di nuovi prodotti. Piuttosto che che Volvo che invece chiede un feedback su quelli che sono i nuovi prodotti che si stanno pensando. E quindi anche tutte queste attività possono essere fatte sempre solo con necessità, con l'utilizzo della tecnologia. L'altro elemento cruciale è quello dell'osservare, ascoltare e imparare. Cioè noi dobbiamo accogliere e imparare e anche cercare di conoscere i nostri clienti acquisendo dati da tutti i canali che si immaginano, che tutti i nostri clienti utilizzano. Se sono in negozio, se lo stanno postando online, se fanno una ricerca, se utilizzano un'app, se sono su Facebook, se mettono un commento, se non ricordo male. Quindi anche lì, se io sono come dire, sono tra virgolette, una vera o comunque sono in cui voglio vedere qualsiasi mio cliente, anche quelli sono assolutamente fatte. L'altro elemento invece che cos'è? Dove non si può fare a meno della tecnologia? È la parte di decisione. Questo è un esempio in cui io utilizzo una carta di credito per fare un acquisto, l'utilizzo di questa carta di credito viene immediatamente ovviamente registrato, viene registrato con quelli che sono i miei dati e in funzione di quello che mi so io, mi viene inviato sul mio cellulare un sms e mi dice che stai facendo questo acquisto. Ma se interessavo a fare un finanziamento su questo acquisto, sì, clicchi, è stato fatto il finanziamento. No, era una proposta che potrebbe essere utile e potrebbe essere significativa per te. Quindi una capacità di reazione molto molto veloce basandosi su che cosa? Su quello che abbiamo visto prima, sui dati raccolti dai nostri clienti. Quando si parla quindi di raccogliere i dati sui nostri clienti da diverse fonti e poi utilizzarli per essere reattivi per le decisioni in real time, non si può ovviamente prescindere e non parlare di biblioteca. E quindi questa raccolta proprio di dati che arriva da fonti assolutamente diverse. Quando si parla di biblioteca non si parla solo di quantità di dati, ma in realtà si parla anche di varietà di dati utilizzati. E quindi alla base di tutta la presa di decisioni, alla base di una personalizzazione del servizio, alla base di... poi possono essere decisioni e quindi analisi fatte sui nostri clienti di decisioni in real time sicuramente non si può prescindere da un approccio di data dove appunto, se come dire, vedete veloce, ti voglio parlare che sono le 3D, quindi 3 elementi caratterizzanti di bit data, quando parliamo di fattori abilitanti ritroviamo quindi tutta la parte ovviamente di business intelligence e analytics, ovviamente la qualità di dati diventa in molto altissimo e poi un altro elemento estremamente critico è quello dei skill e delle competenze, di cui avete già parlato anche oggi. Molte ricerche fatte proprio in ambito marketing, mettono in evidenza come in ambito marketing molte volte mancano delle solide competenze di analisi dei dati, proprio perché se il marketing non deve essere più solo creatività, ma in realtà la decisione deve essere presa anche sulla base di un'analisi seria di quelli che sono i dati raccolti sui clienti, questi nuovi skill, queste nuove competenze analisi che diventano fondamentali, che diventano basilari anche per una funzione, una funzione marketing. Quando parliamo di big data in questa slide vedete che in realtà se si parla di data non stiamo parlando, non stiamo parlando di affrontando il tema, è un tema assolutamente molto interessante, molto bello, dove le sperimentazioni oggi ce ne sono ancora poche quando si parla realmente di big data, però sicuramente è un trend, è un futuro sul quale stiamo andando a convergere. Per riassumere quindi, quali sono le tecnologie che devono supportare, che possono comportare un'attività, quindi a prendere decisioni vincenti in ambito marketing, sicuramente la data integration, cioè una sincronizzazione dei canali, questa multicanalità o omnicanalità, ci deve essere anche un'ottimizzazione di tutti quelli che sono i processi di meccanica, per forza, e poi tutta la parte invece di, tutta la parte di Fontena e tutta la parte di business intelligence, analytics e big data. Dobbiamo dimenticare però anche tutte le nuove tecnologie, come ne so, possono essere tecnologie in e-mail, cioè quali che permettono ad avere un'analisi in tempo estremamente ridotto, quindi molto veloce, di un grande quantità di dati. Per chiudere, vi stiamo anche a un minuto e mezzo, a che punto siamo? Noi abbiamo appena fatto, appena concluso, una ricerca, proprio che andava ad indagare quella che era la digital transformation, quindi la digitalizzazione delle imprese italiane. Questo è il grande libro che va a vedere, vedete ragionare, una prima di cazzo, dove spiega, sono unici anni, quindi qual è la digitalizzazione, qual è il grado di maturità delle nostre imprese su questi temi. Come vediamo, diciamo che una metà delle nostre imprese dice che sono messe bene su questi temi, ma c'è in realtà invece un'altra metà delle aziende che fa ancora molta fatica a lavorare e operare in ottica di multicanalità e così via. Quindi sicuramente molto lavoro c'è ancora da fare, anche perché nel nostro percorso che abbiamo visto, dal marketing 1.1 al marketing 3.0, effettivamente le aziende che sono già arrivate al marketing 3.0, sono ancora, diciamo che siamo un po' nel mezzo 3.0 e 3.0. Io a questo punto mi fermo perché il tempo è esaurito, non so, ditemi domenica. C'è una domanda? Sì, c'è un po' che l'eroggio di un governo, che si è sempre superattante, ma solitamente in base di un'eroggio 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 di un'eroggio. tutto quello per i digitali, tutto quello per i fisici, come dicevamo prima, va a cambiare tutta l'interno di funzionamento interno dell'azienda, quindi non si tratta di aggiungere un canale, ma vuol dire proprio rivedere e ridefinire le proprie logiche di funzionamento, quindi questa è la nostra situazione. Sì, guarda che Ocler 4.0 va dentro, non fa non tanto l'analisi, non conosceva l'analisi di idea, ma guarda come c'è il consumo nazionale, quindi è ancora più grave questa situazione della mente, perché soffrendo che spesso, quando uno di tutti ha la 4.0, i consumatori sono tutti, perché anche gli individui di 5.0 sempre sono solo di statua, come la mentalità, come le diretti, in spazio sono un po' più zero, ora mi ricordo, non me ricordo, sono neanche i progetti, sono i progetti, sono i progetti. Sono i progetti? No, 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 diciamo, sono i progetti, sono i progetti, non sono i progetti, ma è proprio il principio del fatto che il cliente non è solo più concentro, ma è quello che mi diventa quello che è la realtà detta, regole e modalità, cioè la detta non ha più tra virgolette nessuna leva. Sì, però sono le variabili, sposte che coincidono, non sono più soltanto tra emotivo, psicologico e ecologico, la cosa detta, è proprio una condivisione, adesso la condivisione di valore, il valore di fondo non viene più importante tra virgolette, il prodotto di veicolo, ma l'azienda con i suoi valori di veicolo. Grazie, grazie Angela Perigo.